Anche questo per qualcuno sarà un ritorno alla normalità o per qualcun altro una scocciatura. Di certo, con il ripristino del servizio di parcheggio a pagamento, gli ausiliari al traffico potranno ritornare a lavorare. Da lunedì saranno infatti nuovamente attive le colonnine per il pagamento dei ticket e quindi saranno di nuovo attive, per così dire, le strisce blu. Il servizio era stato sospeso a marzo, qualche giorno dopo il lockdown, dopo un confronto tra il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo e la SIS, la società che quel servizio da tempo ormai lo gestisce. Soliti i prezzi, soliti, pure gli orari e le zone interessate. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e poi di nuovo dalle 16 alle 21 solo nei giorni feriali. Tariffa oraria da 1 euro per un minimo da pagare di 50 centesimi a fronte di una sosta consentita di 30 minuti, a margine la possibilità che la ZTL possa essere sospesa nei giorni sestivi, perlomeno in alcune fasce orarie. Se ne sta discutendo in previsione di una fase 2 tutt'altro che facile da gestire anche sotto l'aspetto della mobilità.